Adesso abbiamo con noi Andrea Cinelli, amministratore delegato di Inventia. Un applauso. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera a tutti. Grazie. Innanzitutto, buon pomeriggio. Ho pensato oggi, proprio dato che il mio intervento avviene dopo pranzo, quindi di portarvi un po' prima, di raccontarvi il pensiero che abbiamo sviluppato per voi, un po' nel passato. Quindi non tutti, penso, immagino, in sala riusciranno a seguire, magari vedo tanta gente giovane, io ho 52 anni, quindi probabilmente qualche cosa in più, però penso che sia divertente trasportare l'esperienza che è stata sviluppata in tutti questi anni e anche mia personalmente, per raccontarvi un po' come è possibile immaginare un futuro in piena digital transformation. Innanzitutto questo qua sono io. Ci sono i capelli, quindi evidentemente fin dall'inizio c'erano, col mio Commodore 64, stavo ancora studiando, ed è stata fin da subito una grande passione quella del personal computer. infatti siamo stati tra i primi a provare a connettere un Commodore in rete. Era una cosa molto strana, ecco, nel 1981, tanto che poi addirittura nell'onda di questo entusiasmo, addirittura ci ho creato una piccola azienda. E parlare di internet nell'85 mi assicuro che era molto, molto difficile, non vi seguiva assolutamente nessuno. Da lì la passione piano piano mi ha portato a lavorare anche fuori, anche nella grande mela. E lì ho iniziato un po' a capire un po' anche come è necessario iniziare a ragionare differente, capire un po' fuori dalle righe e soprattutto cavalcare la trasformazione più che soffrirla. e questo è stato indispensabile piano piano nel percorso che, una volta tornato in Italia, ho provato a sviluppare in qualcosa che forse nessuno di voi o pochi di voi conoscono, le famose BBS. Una volta internet era questa, non c'era il web, c'erano delle stringhe Unix, si scriveva, si shattava, c'erano dei modem che facevano dei rumori pazzeschi, qualcuno se lo ricorda. Io mi avevo allestito addirittura nella mia camera una stanza in cui c'erano 20 modem e fornivo il servizio, non so a quanti e a Livorno ero a quell'epoca. E poi dopodiché piano piano il servizio cresceva, 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 i modem crescevano, ma non è che crescevano a una velocità, costava anche tantissimo perché molto spesso ci si doveva connettere in interurbana. Da lì piano piano qualcuno magari forse inizia a seguirmi, si iniziano a sviluppare le chat, qualcuno di queste magari qualcuno di voi le avrà usate. Ed è bello, no? Perché la comunicazione si stava trasformando, stava diventando un qualcosa che comunque, essendoci sempre dietro una persona, non c'era più la persona davanti a te. Si interagiva, si shattava, si trasferivano delle immagini. Qualcosa che fa parte della nostra storia. Nascono le community. E dalle community cosa sono nati poi? I portali, aree crematiche, dove le community si trasformavano e diventavano aree in cui alla fine le persone esprimevano i loro pensieri, mappere, non più soltanto ragionando in maniera generica, c'erano le diarie di tutti i tipi. Poi andando avanti si entra in una fase nuova. Qualcuno di voi avrà usato questi prodotti, e ancora oggi molto esistono, e a quell'epoca l'SMS era una rivoluzione. Ve la ricordate sicuramente. Gli SMS, trasferire un SMS. La rivoluzione vera fu quando sul 6210 venne messo il tasto SMS all'entrata. Fammi ricordare i famosi telefoni, peraltro quello bellissimo, a bananina, che era fantastico, che se andava a giro si faceva scattare per fare impressione sulle ragazze. Era veramente meraviglioso. Si sviluppano anche meccanismi nuovi di comunicazione. Vedete il dinasorino qua dietro, erano uno dei primi tamagotchi di SMS quando vu un lanciato in Omnitel, il primo giorno, 1.800.000 SMS. C'erano i bambini che entravano nei negozi e chiedevano perché mi è morto il dinasorino. Come riesco a dargli da mangiare? Una cosa veramente pazzesca. E poi, dopodiché, andiamo ancora avanti, si entra nel 2004, si arriva e si sviluppa un mondo nuovo, il broadband. Iniziano ad arrivare le connessioni veloci, iniziano ad arrivare le partite, iniziano ad arrivare lo streaming, che è quello che oggi poi riteniamo così banale e utile per vederci una partita la sera andando su una TV o su Netflix. Questo era il livello, questa era la qualità. Ma stiamo parlando di la bellezza di 13 anni fa. Tutto questo per dirvi che un po' di questo è colpa mia, ma che anche, da un certo punto di vista, questo mi ha consentito di comprendere una cosa. come in questi vent'anni, la comunicazione, l'interazione tra di noi si è trasformata da umana a quella che io chiamo physical. Fisica e digitale. Noi ormai siamo quasi tutti, vedo qua e qui con uno smartphone, parliamo qua, ma probabilmente siamo anche da qualche altra parte, stiamo interagendo. Questa è un'interazione digitale, sì, però ci siamo odiati a noi, per cui è umana, e quindi io la chiamo physical. Da lì il mio pensiero è stato perché non usare una tecnologia del genere per offrire un'esperienza di persona, ma non soltanto a un mondo consumer, a un mondo business, alle aziende, per ricreare quella relazione personale che abbiamo ogni giorno quando voi parlate con il vostro cliente di viso seduto davanti a voi, però farlo facendo esattamente, potendo fare esattamente le stesse cose a distanza. Un qualcosa che sia pensata per questa signora qua, per comunicare e consentire a lei di comunicare con voi mentre è in queste circostanze. Pensiamo che sia una madre, in realtà questa è una foto importantissima, lei è una top manager, sta a casa, gestisce il suo figlio, gestisce quindi oltre 2500 persone che lavorano con lui, ma sta a casa. Come fa lei a avere un rapporto tale da potersi uscire in casa, andare in un'agenzia? Cioè lei deve poter avere la possibilità di fare le stesse cose come pensa di fare ogni giorno con i suoi dipendenti, con le persone che lavorano con lei tutto il giorno, ovunque. perché oggi essere connessi è un po' il nostro modo di essere. Noi siamo connessi praticamente con tutto, si sta trasformando non soltanto lo smartphone, l'IT, l'intelligenza artificiale, sta diventando qualcosa che entra nella nostra vita e è sempre più parte del nostro ecosistema. Quindi, io lo chiamo omniconsumer, benvenuti in un'epoca di E, nuova. L'omniconsumer è un qualcuno come noi che non distingue più tra un canale o l'altro. Per lui è la stessa identica cosa. Tradizionale, e-commerce, multicanale, superati. Oggi noi siamo omniconnel, o meglio omniconsumer, non abbiamo neanche più un pensiero di pensare che quello è il negozio, quello è l'online. Noi quando vogliamo qualcosa lo desideriamo, lo vogliamo adesso e poi dopodiché lo acquistiamo ed è quello che noi facciamo ogni giorno, magari quando la nostra esperienza si sviluppa andando per esempio su un'Amazon dove ogni giorno qualcuno di noi, molti di noi, passano del tempo per soddisfare non soltanto l'esigenza di comprarsi il nuovo device elettronico, ma non mai ci si fa anche la spesa, si iniziano a comprare i beni di consumo quotidiani. Ma il mondo sta cambiando, sta arrivando anche a trasformare la nostra relazione, la sta trasformando in una relazione immersiva e questo paradigma che vediamo dietro a noi, che sembra così lontano, non pensate che sia così distante. Vengo dalla scorsa settimana dal Mobile Congress a Barcellona, il 50% degli stand a Barcellona del Mobile Congress parlavano di questo oggetto qua, quindi io mi immagino che nei prossimi cinque anni, almeno forse tre, questo oggetto qua inizierà a entrare la nostra vita e potremmo parlare con il nostro agente assicurativo in questo modo, potremmo parlare con la nostra banca in questo modo, come se fossimo presenti, bello, brutto, non vale, non è importante, questo è il progresso, non è che si può giudicare da un punto di vista, qualcuno potrà piacere o meno, però questo è. E questo è i social, ognuno di noi ha un account social, anche più account social, e i social stanno diventando banche, stanno diventando negozi e anche su questi noi ogni giorno ci rivolgiamo per conoscere meglio quell'azienda, acquistare qualcosa, avere maggiori informazioni, il confine ad acquistare è veramente limitatissimo. E quanti di voi poi cerchiamo il ristorante, ci muoviamo usando, non so, TripAdvisor per cercare, cioè, questo lo facciamo ogni santo giorno e attraverso la realtà aumentata, attraverso le mappe, riusciamo quindi a trovare quello che ci serve senza più fare come faceva una volta, ci dice il migliore ristorante, qual è quello più vicino, magari ci fermava un passante, ecco, abbiamo tutto a disposizione? No, oggi sì, oggi abbiamo questi tipi di soluzioni, e in questo caso ho bisogno di qualcosa da mangiare, lo desidero, lo voglio adesso, io sono ovunque, procedo ad acquisto. I modelli retail che non hanno seguito questo modello o che non seguono la digital transformation, hanno subito questi fenomeni. Può essere un rischio, può essere un'opportunità, c'erano business, il più famoso è Blockbuster, che non esistono più, che sono business fortemente attaccati dalle auto intelligenti, e lo vediamo in televisione, è un rischio o un'opportunità? o un'opportunità? Prima di tutto, la cosa più importante per comprendere e rispondere a questa domanda è capire chi è il vostro cliente, e il vostro cliente sono questi signori qua. Questi signori qua vedono questo oggetto come il negozio, come il punto di riferimento centrale della loro vita. quanti di voi basta andare in una metropolitana o per strada, ma anche qui, quanti di voi passano buona parte del proprio tempo davanti allo smartphone? Immaginiamoci i millennials, i millennials passano tantissimo tempo con questo strumento, comunicano con questo strumento, interagiscono, amano, comprano, pensano, e dentro il 2025 saranno la maggioranza, il 75% della forza lavoro, quindi lì sarà lo spending, quelli saranno i vostri clienti. Questo porta però necessariamente a dover ripensare un po', quindi penso che concorderete con me sul modo con cui è necessario interagire con un cliente che cambia in questo modo, con uno scenario così veloce, sentiamo parlare di intelligenza artificiale, sentiamo parlare di macchine che guidano da sole, sentiamo parlare di tanti fenomeni che si stanno accavallando e sembra quasi che non ci sia un limite, ma in effetti non c'è un limite, c'è una velocità che cresce. In fondo con loro cosa desiderano? Desiderano essenzialmente un'esperienza d'acquisto unica, poco importa che ci si trovi in un negozio davanti a un telefonino, sul sito web, su un social, per loro è poco importante, vedono l'azienda, vedono il prodotto, non vanno a definire, a capire dove andare e perché scelgono, lo compro sull'e-commerce, lo compro nel negozio, quando lo vogliono lo comprano e vogliono un'esperienza personale, la personalizzazione è anche frutto del fatto che acquisiscono talmente tante informazioni, talmente tanti feedback, talmente tante condivisioni, guarda, quel vestito è meglio comprare lì, vai, no, ma perché non l'hai compreso su quest'altro negozio, guarda, su Yux, c'è questa cosa nuova, quindi tutte queste informazioni che transitano fanno sì che il cliente alla fine vada veramente a trovarsi qualcosa di suo personale, ma contemporaneamente abbiamo a che fare con qualcuno che non è lì e che non conosce ha talmente tante informazioni, riceve talmente tanti feedback che le sue informazioni sono molto spesso superiori a quelle del venditore e soprattutto una cosa che emerge è che richiedono la stessa esperienza umana però la richiedono nel canale che loro amano, cioè nel canale a cui sono abituati, se quello è il loro canale dobbiamo dargliela su quel canale, la stessa identica esperienza. In fondo questa citazione in inglese di questo importante retailer dei servizi medicali dice che i millennials vivono due vite, una quella reale e un'altra quella digitale, quella digitale che è fatta dal momento in cui condivido, dal momento in cui cerco delle nuove informazioni, dal momento in cui vedo questa cosa e mi interessa, dal momento in cui finisco su un attimo su Amazon vedo il feedback di quel nuovo smartphone e mi piace, lo compro. Quindi bisogna prendere il momento, bisogna essere accanto al cliente nel momento esatto in cui quel cliente lì è pronto per quell'acquisto ed è pronto per voi. Ovviamente io stesso, alcuni di noi apparteniamo a questa categoria, a quelli che si chiamano young senior ma che siamo nati, io sono nato nel 65, il rapporto umano era la base, non c'erano neanche i telefonini, si parlava, si interagiva, quando si era per strada si chiedeva la via, cioè questo è da dove sono nato, oggi però sono qui, parlo di digitalizzazione con voi, quindi mi sono evoluto. Ovviamente non avrò mai la digitalizzazione di mio figlio, mio figlio è nativo, ha nove anni, usa il mio iPad e fa delle cose che io ancora nonostante tutta la mia esperienza non so fare, lo fa con una naturalezza tale che mi farà pensare che quando lui avrà 18 anni sarà talmente naturale per lui interagire con questi strumenti che non farà proprio alcuna differenza tra tutti i differenti canali che gli metteremo a disposizione. Il buon Steve poi ci diceva una cosa, ho avuto anche la fortuna nella mia vita di incontrarlo una volta in ascensore, è stato terrificante perché solitamente chi entra in ascensore o chi entrava e si trovava accanto a lui non era seppur fantastico era pericoloso, era molto pericoloso. C'è stato un film tra l'altro recentemente, non il secondo, il primo che lo rappresenta molto molto bene nel suo modo di camminare nel suo modo di pensare ma essenzialmente lui ci diceva la stessa cosa anytime, anywhere, quando il cliente vuole comprare qualcosa non gli raccontate la parola omni-channel, non gli interessa, a lui gli interessa acquistare quel prodotto, quella cosa, quello che lui desidera in quello specifico momento a prescindere dal device o dalla situazione in cui lui si trova. C'è anche un paradosso informativo e fra l'altro lo viviamo tutti i giorni anche noi, è questo paradosso qua, il paradosso di Braes che dice che se si apre una nuova strada non è mica detto che il traffico si riduce, molto spesso aumenta. E cosa ci dice questa informazione? Ci dice un'altra cosa, che se voi andate dal medico e gli chiedete chi è il suo principale nemico, molto spesso vi dirà internet, perché tanti arrivano dal medico con talmente tante informazioni che pensano di essere più bravi del medico e il medico dice scusa ma cosa ci viene a fare? alcuni si prendono delle depressioni ancora prima di essere depressi, alcuni si pensano malati terminali ancora prima di esserlo e questo è un grosso problema, l'eccesso di informazione è uno dei grossi problemi e fra l'altro più che aumentano le informazioni più che non siamo nelle condizioni di poterle gestire facilmente. ci troviamo spesso in questa situazione quante volte disperati avete difficoltà talmente a capire qual è la scelta più giusta che molto spesso la scelta finale è non acquistare rimandare in realtà la relazione umana detto quello che avete visto prima emerge come il vero valore e non soltanto oggi o nel mio passato ma nel futuro perché è quello che consente di poter aiutare il cliente a scegliere la strada più giusta adatta a lui il suo prodotto più ideale ma lo può fare soltanto se siamo adatti a seguire questa strada sentiamo anche noi i physical se riusciamo ad essere capaci di poter interagire intercettare quei clienti nello stesso modo in cui loro ce lo chiedano se li stiamo a aspettare e questi sono sul telefonino è impossibile non ci verranno mai da noi dobbiamo essere ovunque dobbiamo essere capaci di lavorare con un cliente omniconsumer perché noi stessi siamo omniconsumer il cliente spesso non acquista online quello che intacca pesantemente il suo futuro o incide fortemente sul suo lifestyle e voi e voi fra l'altro siete proprio i testimoni di questo perché andate a toccare tanti quegli elementi che la cui scelta corretta o sbagliata cambierà potenzialmente lo stile di vita o addirittura completamente la vita di quella persona è una scelta sbagliata è una scelta che non si riesce facilmente poi a risolvere e quindi questo è un ruolo importantissimo siete i primi a poter rispondere alla mia domanda quello che quindi emerge probabilmente è che sfruttando i vostri punti di forza il punto di forza della relazione umana quello peraltro che per l'allenamento anche noi come azienda sosteniamo quello che la relazione umana è il valore a prescindere dal canale e dobbiamo essere capaci di portarlo oltre la dimensione fisica nel mondo digitale questo è il valore per costruire non soltanto un qualcosa che serve per oggi ma serve anche per il vostro futuro però va rinventata in funzione di esigenze che sono completamente diverse e cambiano perché voi vi trovate il Jan Senior che va benissimo si siede davanti a voi ma vi troverete il Millenials che probabilmente avrà molte più difficoltà e vorrà interagire con voi con gli strumenti in cui è abituato il valore della relazione umana e poterlo restituire attraverso i canali digitali è quello che probabilmente fa la differenza tra una offerta una proposta una soluzione e il resto del mercato quello che noi pensiamo quello che io penso è che il vostro ruolo è quello di essere veramente ovunque ovunque sia il vostro cliente avendo tutti gli strumenti per poter interagire con lui non soltanto quindi lo store non soltanto la postazione fisica ma poterlo interagire che sia telefonicamente che sia in chat sul telefonino che sia sul web che sia sui social sembra quasi impossibile però in realtà lo è perché il cliente deve poter contare su di voi in qualunque momento lui lo desideri in qualunque momento la persona ha bisogno di un vostro supporto non deve trovarsi nelle condizioni che non riesce a poter soddisfare questa esigenza deve poter contare su di voi in quell'istante e con gli strumenti che ha a disposizione essere accanto a lui avere la possibilità di parlare la possibilità di poter dare quella consulenza che date abitualmente ogni santo giorno anche se in digitale è il vero valore è quello che almeno penso sia il grande valore che potete portare e un po' lasciatemi un po' di nostalgia ritornare a guardarsi negli occhi seppur mediato da un canale digitale però ritornare a guardarci ritornare quindi a poter dare quel supporto che è indispensabile per evitare che il vostro cliente faccia delle scelte sbagliate che non venga seguito nel momento in cui ha bisogno per darmi un'idea dopo è tutto tutto questo inizio anche a farvi vedere qualcosa questo è un po' il modo con cui noi ci poniamo sul mercato come Inventia e facciamo proprio di questo la nostra mission quello di riportare sul mondo digitale la relazione umana vedrete delle circostanze particolari simpatiche dove da una parte c'è un cliente ma dall'altra ci siete voi c'è un non so un retailer c'è qualcuno ma che non è fisicamente lì è online e la relazione sarà abbastanza divertente è facile don't worry we'll take care engage Identify Sell In person Anywhere and anytime In the omniconsumer range In Bandia The engagement revolution Questa è la physical agency Immaginate quindi di poter avere tutti gli strumenti che avete visto in quello spot a vostra disposizione e di poter interagire con me vostro cliente sul mio smartphone sul computer che io sia su Facebook o anche da magari potete vederle qui fuori da workstation immersive che vi consentono una relazione con la persona e con il cliente tale quale a quella reale il cliente potrà quindi interagire avere la possibilità di poter avere gli stessi servizi le stesse relazioni le stesse cose poter firmare un contratto poter essere identificato poter firmare tutte le clausole che volete a norma di legge oggi quando aprite un conto corrente in molte delle banche italiane in video chat usate comunque la nostra piattaforma quando fate una speed usate la nostra piattaforma quando voi fate un'attivazione di una linea mobile ad esempio in Vodafone usate la nostra piattaforma non ve ne accorgete sta crescendo ma oggi aprire un conto corrente in chat è sempre più consueto questo però deve garantire tutti i livelli di sicurezza necessari deve potervi identificare deve avere tutte le possibilità di farvi firmare la quantità e le tonnellate spesso di carta dematerializzando completamente un processo e potendolo fare se tranquillamente ovunque sia come quella signora che era in una vasca da bagno e si fa una sim card sembrerà buffo ma una sim card in una vasca da bagno ma neanche online non si può fare perché c'è una legge la legge Pisanu che prevede la devisu e se non hai davanti una persona non si può è vietato dalla legge noi siamo riusciti a poterlo fare e oggi se andate su attiva facile appunto vodafone.it vi fate una tranquillamente una linea mobile compliant con la legge che è soprattutto mirata all'antiterrorismo il cliente quindi potrebbe avere sempre voi a disposizione in qualunque momento e potere anche interagire con voi avendo tutte quelle risposte quelle informazioni quelle quel supporto che è necessario non necessariamente vi immaginate di essere dietro o in un contact center voi potreste essere tranquillamente ovunque sul vostro smartphone e gestire l'intero portafoglio dei vostri clienti in questo modo senza avere quindi la necessità di dovere fisicamente stare in una postazione fisica una multicanalità da una parte e una multicanalità dall'altra il cliente può provenire da un canale e voi rispondere da un altro questo noi lo chiamiamo edge commerce human commerce si passa dall'e-commerce tradizionale il commercio elettronico che spesso è visto anche un po' come il nemico quello che ci disintermedia all'edge commerce quello che è necessario per poter concludere una relazione che è necessita perché è una relazione del vostro supporto del rapporto umano e la rete di vendita quindi attraverso un percorso di questo potrebbe essere incredibilmente rafforzata perché potrebbe potenzialmente rispondere a quella domanda che abbiamo visto prima rischio opportunità come una grande opportunità una grande opportunità per essere accanto a un cliente a quei clienti quei millennials che fra poco saranno i clienti maggioranza del nostro paese ma non soltanto qua noi quindi come Inventia lavoriamo per offrire una seamless experience e muoviamo il mondo retail tradizionale a un mondo digitale potenziando la relazione umana offrendo tutti quegli strumenti che servano a poter essere accanto al vostro cliente ovunque si trovi la piattaforma è abbastanza complessa ma riassumendo in modo molto semplice in cosa si sostanza si porta dietro la possibilità da parte vostra di poter chattare di poter interagire senza niente da installare non c'è skype non ci sono software molto molto semplice a prova di chiunque soprattutto la possibilità di gestire dei processi quando voi sottoscrivete una polizza eseguite essenzialmente uno script eseguite essenzialmente un processo fate una serie di azioni e completate una serie di documenti che sono frutto del fatto che per fare quel documento quella polizza è necessario fare quel tipo di percorso quindi workflow è necessario però identificare il cliente perché io potrei essere dall'altra parte ma se voi non avete la possibilità di identificarmi correttamente io potrei firmare ma essere chiunque fortunatamente in Italia magari talvolta ci sottovalutiamo siamo stati i primi a avere in Europa una legislazione che si chiama SPID che è poi diventata EIDAS a livello europeo e oggi abbiamo delle norme che ci dicano come identificare correttamente una persona dall'altra parte c'è un processo e questo processo non lo rispettiamo quindi alla fine avremo la possibilità di avere una corretta identificazione a norma di legge della persona che si trova dall'altra parte è possibile scambiare documenti condividerli acquisire i documenti identificativi del cliente collaborare essere con il suo PC come se fossimo presenti condividere schermate condividere le vostre schermate per far vedere il preventivo fino a poi raggiungere a quello che noi chiamiamo il videocontratto videoregistrando la sessione acquisendo tutti i documenti e tutti gli elementi biometrici necessari per poter garantire che quella azione che è stata fatta questa quella transazione quel contratto è sicuramente qualcosa che il cliente voleva e può essere anche provato a distanza e soprattutto ovunque anytime anywhere sei canali distinti da un semplice sms fino al web noi lavoriamo molto nel mondo assicurativo anche con voi lavoriamo molto nel mondo finanziario e alcune delle soluzioni alcune fra l'altro oggi ne vedete una qua esposta poi quel video che avete iniziato a intravedere prima vi farà vedere realisticamente quello che è già on field sul campo in Italia usando quella soluzione e usando la nostra piattaforma l'agenzia virtuale consente essenzialmente di replicare un qualcosa che io come quando ero un manager di un'azienda mi trovavo ed ero consueto trovarmi ero in telecom scendevo e mi trovavo alla filiale assicurativa all'interno del building oggi non ci sono più forse per ragioni di costi per tante altre motivazioni questo oggi è possibile non c'è più bisogno però di prendere e di slocare con tutta una logica di costi questo all'interno di quel building attraverso soluzioni come queste è possibile avere una presenza all'interno di un'azienda e quindi poter offrire a tutti i dipendenti attraverso convenzioni con quell'azienda senza dover essere necessariamente presenti i risultati sono stati estremamente sorprendenti altro tipo di utilizzo è il supporto che può essere dato al cliente attraverso gli strumenti che abbiamo visto prima il cliente acquisite il cliente o meglio fate quello che si chiama il cosiddetto onboarding quindi acquisite uno cliente che potrebbe provenirvi magari è venuto da voi magari semplicemente vi ha mandato sul vostro sito un'indicazione un'email ecco in questo modo basterà mandargli un link e da quel link senza che lui si stagli assolutamente niente sarà possibile fornire tutta la consulenza specialistica ma non soltanto fermarsi lì fino ad arrivare quindi all'accompletamento del contratto il remote consultant è un qualcosa che si sta sviluppando sempre di più è una tendenza che sta emergendo quella di poter far sì che il sito istituzionale ridiriga le chat verso i clienti geolocalizzate attraverso l'agenzia locale più vicina quindi anziché finire su un contact center finirà su l'agenzia più vicina a casa mia magari io sto in via delle forze armate a Milano mi risponderà l'agenzia più vicina a me che non solo potrà darmi quella relazione stando dentro l'agenzia ma potrà anche invitarmi a entrare nell'agenzia ma se io non ho tempo perché sono un manager ho troppe cose da fare non mi deve eccessivamente perdere è lui che mi gestisce e che mi gestisce anche l'appuntamento uno dei progetti interessanti tra l'altro su cui abbiamo anche iniziato a fare delle esperimentazioni con voi è proprio quello anche della gestione delle perizie la possibilità di fare la gestione del sinistro faccio un incidente chiamo la mia agenzia che farà le foto del mio incidente questo abbatterebbe abbatte moltissimo le frodi e soprattutto mi aiuta a gestire identificandomi il CID facendolo attualmente in elettronico non più carta non più disegnini non più litigate con qualcuno ma tutto fatto in modo elettronico veloce immediato istantaneo e gestito dall'agenzia questo è un caso reale e qui concludo scusandomi fra l'altro se sono stato un po' prolisso quindi mi dispiace da questo punto di vista il tema però devo essere sincero mi appassiona moltissimo quindi vi ringrazio di avermi anche invitato a parlare di questo questo è un caso reale se voi andate a Milano al Samsung District trovate una virtual agency messa a disposizione di tutto il building dei dipendenti Samsung attraverso una convenzione che è stata fatta dalle agenzie di un'agenzia di questa assicurazione con la stessa Samsung e tutti i dipendenti hanno a disposizione questa soluzione sta avendo degli ottimi risultati ed è un progetto che è molto apprezzato perché obiettivamente fino a ieri non essendoci più una possibilità di interagire localmente con qualcuno si doveva uscire il dipendente doveva fare qualcosa di nuovo doveva andare fuori invece se lo trova accanto alla macchina del caffè quanto di più semplice anzi devo essere sincero qui accanto alla macchina del caffè e dei gelati quindi molto spesso ci vado anche volentieri vi faccio vedere aspetto a passare col video invece e qui chiudo un po' di implementazioni live fatte attraverso la nostra piattaforma con quel dispositivo che potete provare qua e che è esposto ed è basato su una piattaforma di HP sembrerebbe un PC in realtà è una Immersive Watch Station perché si chiama così? perché non ha più una tastiera non ha più un mouse è immersiva qualcuno magari si ricorda Minority Report è molto vicino come modo di operare tra l'altro è diventata talmente semplice di poterlo fare è un oggetto che sta avendo un grandissimo successo tanto che alcuni dei clienti che vedrete l'hanno deployato in maniera molto importante sul mercato e le trovate ovviamente siete ben certi se volete provarlo dopo e vi faccio vedere un po' cosa è possibile fare con una soluzione di questo tipo e cosa sarebbe possibile fare per aver guardato il nostro gruppo è un po' cosa che ci sia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.